e già è proprio vero ti stanno truffando cosa cosa stai dicendo no adesso te lo vado a spiegare in questo video ti spiego perché ti stanno truffando non tutti ecco alcuni sì alcuni no questo è da dire però alcune volte i call center ti spiegano una cosa per un'altra quindi in questo video vado a spiegarti cosa devi fare quando hai una connessione internet quindi andiamo subito a parlare di questo eccoci qua oggi andiamo a parlare di connessioni perché sto facendo questo video perché molti clienti mi chiamano mi dicono andrea cosa devo fare ho una connessione pessima non funziona niente non so come comportarmi aiutami tu ok io gli dico vediamo un po la tua situazione quindi vado a vedere il tipo di problema che ha in casa vedo che tipo di connessione a e certe volte mi rendo conto che dal call center gli hanno detto una cosa per un'altra come gli hanno detto andrea io ho la fibra dentro casa io ho la fibra dentro casa vai dentro casa del cliente e vedi il doppio telefonico quella signori mi dispiace per voi ma la fibra ottica quella non è la fibra ottica l'avete quando avete il cavo di connessione a internet il cavo che vi arriva in fibra c'è una scatoletta bianca che vi installa l'installatore di open fiber di team quello che sia e lì avete proprio la connessione in fibra ottica e soprattutto lo vedete anche dal vostro speed test se una connessione che vi fa dalle 500 alle 800 mega quella è una connessione in fibra ottica se avete una connessione da 80 massimo 200 me allora quella è una connessione sì in fibra ottica ma se vi arriva il cavo il rame c'è l'ultimo pezzo che è tutto il rame e quindi la connessione si perde quella si chiama ft tc infatti quando vi fanno i contratti sentite se dice ft tc lo avete la fibra ottica col cavo se ft tc la fibra ottica l'avete fino dentro casa quindi andate a vedere bene però adesso vi dico anche questo se voi avete problemi di questo genere potete anche contattare il vostro tecnico digitale perché anche io vi posso controllare la vostra linea vi posso controllare tutto le varie disponibilità che avete sky tiscali link m euro tutto quello che volete vediamo insieme mi raccomando qui sotto ho lasciato il link per contattare per prendermi per prendere un appuntamento e vi dico che tipo di connessione vi serve vi faccio direttamente il contratto arriverà o io se siete della zona o altri tecnici specializzati vi metteranno la connessione internet e il gioco è fatto poi grazie a una collaborazione con un'azienda stiamo implementando le nostre competenze anche per le aziende quindi se avete problemi aziendali che non capite che la connessione non va ci sono vari tipi di connessioni dovete fare la dual balance perché una connessione solo non vi basta dovete controllare i vostri centralini dovete controllare la vostra cyber security e adesso sapete quello che è soprattutto le aziende di adesso il tecnico digitale assieme a suo team sta aiutando aziende a risolvere tutti questi tipi di problemi possiamo fare anche linee dedicate internet solo per l'azienda possiamo smuovere veramente tanto ho voluto fare questo video soprattutto per te cliente finale che sei a casa e che sta vedendo questo video non so se riuscirai a vederlo fino alla fine quindi ti invito a iscriverti il canale lasciare un like e soprattutto scrivere nei link qui sotto e spero che ancora stia vedendo questo video perché volevo spiegare tutte queste cose volevo spiegare tutte queste cose per spiegare a voi i tipi di problemi di connessione che ci sono quindi possiamo dedicare del tempo per voi possiamo trovare una connessione come i favolosi call center ve la trovano no stavo scherzando troviamo un tipo di connessione adatta alle vostre esigenze vediamo che tipo di contratti possiamo fare e risolviamo tutto quattro possiamo anche vedere se hai una velocità adeguata in quella zona o hai una velocità vecchia e poi avere molto molto di più quindi questo video l'ho fatto pure per spiegare i nostri servizi voi andate alla ricerca vi affidate ai call center affidatevi a dei professionisti io e il mio team e le mie collaborazioni vi possono dare tanto soprattutto sia per chi vuole una connessione a casa ma anche per chi vuole una connessione nella propria azienda sicura prima di tutto veloce i centralini che devono capire se perde le chiamate o no dai vostri dipendenti e se avete bisogno di questo c'è il tecnico digitale con il suo team qui a vostra disposizione è stato un video un po minaccioso non è vero è stato un video per aiutarmi perché io vi voglio aiutare il vostro tecnico digitale vuole spiegare perché succedono queste cose e quindi siamo qui per voi a risolvere i vostri problemi voi avete un problema di connessione avete un problema con internet non vi arriva il vostro wifi con i miei video con me con il link qui sotto in descrizione troverete ogni tipo di soluzione a questo problema quindi ciao a tutti da andrea lanciotti il vostro tecnico digitale ciao